più sei vicino alla morte più ti senti vivo tu sei james vero? si chi è quello? mickey lauda, il nuovo ingaggio della ferrari ma non è nessuno guarda come guida, come un vecchio per quale motivo dovrei guidare più veloce? perché te lo chiedo io è un duello assolutamente incredibile tra due grandi piloti la prossima volta ti batto non hai speranze, pensi solo alle feste, per questo piaci a tutti si lo so, sono terribile no, non sei terribile, sei quello che sei a questo punto della tua vita non basta essere veloci per essere un campione devi crederci è tutta la vita che aspetto questo momento posso batterlo, fidati è costante, affidabile metterà la vita in gioco quando servirà davvero? benvenuti al duello più appassionante dell'ultimo decennio sbagliati il campione del mondo, Nicky Lauda, intrappolato in un inferno di mille gradi centigradi parlami, James non metterti con uomini che per trovare la normalità vogliono uccidersi cosa ha detto sua moglie quando ha visto la sua faccia? ha detto non serve una faccia per guidare, serve il piede destro mi sento responsabile per quello che è successo perché tu vincevi mentre io lottavo con la morte e sei responsabile anche d'avermi fatto risalire in macchina 42 giorni dopo l'incidente che gli è quasi costato la vita Nicky Lauda torna oggi a correre più forte della paura della morte è la voglia di vincere